Un aperitivo, un pomeriggio dedicato completamente allo sport in una location fantastica e grazie a loro, grazie a Gardini per arredare, è stato possibile ed è reso possibile a tanti tifosi incontrare i loro beniamini dello sport e i giocatori del Cesena Calcio. Cavalier Gardini, come nasce questo binomio tra sport e arredo? Nasce perché noi siamo sempre stati ancora da quando è stato in Serie A, 19 anni fa, siamo sempre stati sportivi, abbiamo sempre aiutato a cercarci di darsi da fare, siamo stati un po' innamorati in Cesena. In più, dopo, prendendo la presidenza, l'ho visto nascere, è di gatteo, l'ho redato quando si è sposato, abbiamo un rapporto familiare, abbiamo un rapporto, è stato un ragazzo con una volontà favolosa, ce la mette tutta, anche se delle volte purtroppo apprendendo qualche portiere. Eh vabbè, capita, risultati calcisti, non siamo qua a commentare quelli oggi. Però, ha capito allora che il rapporto che c'era, lui ci ha invitato che le servivino dalle robe, abbiamo fatto dei preventivi, i preventivi sono andati bene, li abbiamo accordati e abbiamo redato tutto quello che c'era da redato. E per quello ci teniamo ancora di più a fare questo lavoro qui. A fare del bene, insomma, in questo senso. A fare del bene. Avete arredato gli uffici della società del Cesena Calcio, buona parte dello stadio, quindi dell'Hospitality, l'ufficio stampa, la parte dedicata alla stampa, quindi quando ci sono delle conferenze stampa. Alla stampa, dove si mangia, tutto, camion di sgabelli, cosa stichierà. Camion di sgabelli, io le ricordo che ne vorremmo qualcuno di nuovo anche noi a Teleromagna, quando vogliamo andarci. Per lei c'è sempre. Lei oggi è un po' il benefattore, posso definirla anche un po' Babbo Natale, siamo vicini alle teste di Natale, di tanti bambini che sono qua e di tanti tifosi del Cesena, perché finalmente dà la possibilità a loro di incontrare i grandi sportivi della Serie A, i professionisti del Cesena Calcio. Sì, infatti abbiamo preparato 1200 maglie dove speriamo che i giocatori le siglano per regalare a stigioni, perché più siamo e più dovremo contare e la squadra deve crescere. Un in bocca al lupo a tutti, quindi? Un in bocca al lupo a tutti e Campenelli, ok. Parliamo di una realtà, quella dei gardini per arredare, che comunque anche grazie al Cesena Calcio ha avuto modo quest'anno di allargare i suoi orizzonti, no? Indubbiamente, noi lavoriamo a livello di Romagna qui con il nostro punto vendita che è dal 1966 che qui l'ha fondato mio padre e con grandissimo successo abbiamo i nostri redatori che ricevono i clienti o vanno a casa dei clienti per soddisfare ogni esigenza. Poi da, come tu ben sai Elisa, da più di un anno abbiamo aperto un sito online per le vendite in tutta Italia, col Cesena Calcio, con la promozione del Cesena Calcio abbiamo incrementato moltissimo questo sito che si chiama Gardini Store e abbiamo tantissimo successo. Insomma, bianco e nero nel cuore, bianco e nero anche sul sito internet, bianco e nero in giro per l'Italia, sempre grazie a Gardini. Igor Campedelli, Gatteo è la tua città, il Cesena è diventato la tua vita perché questa è la realtà e oggi li abbiamo mescolati, li abbiamo rimessi insieme Cesena Calcio e Gardini per Arredare a Gatteo. Presentazione perfetta, perfetta, no? Sì, è chiaro che tornare a Gatteo è sempre un piacere, ci passo quotidianamente con i miei genitori, mio fratello, tutte le mie amicizie, quindi è bello. Presidente, la sua città, come ha detto giustamente lei qui in Senato, è questa associazione, portare i suoi giovani, i suoi professionisti, i suoi campioni a Gatteo, perché? I ragazzi credo che non vengono solo a Gatteo, giriamo un po' tutta la Romagna, siamo molto presenti perché vogliamo assolutamente che il calcio sia integrato col territorio, così come Cesena, che è la città per la quale difendiamo i colori, ma così anche con tutti i paesi che ruotano attorno a Cesena, compreso Gatteo, come Sant'Arcangelo, Savignano, tantissimi altri paesi che di fatto racchiudono la Romagna, perché noi ci sentiamo un po' il Cesena calcio, ci sentiamo anche la spada della Romagna, quindi è giusto toccare un pochettino quelli che sono anche tutti i paesi e luoghi che non sono solo Cesena. Siamo all'interno del Gardino per arredare, quindi l'arredamento, c'è qualcosa di sfizioso che tu vorresti mettere di nuovo a casa? No, infatti lo devo venire una volta con calma che lo devo vedere proprio tranquillamente, perché adesso abbiamo dato… C'è un po' troppa gente? Sì, gente, abbiamo fatto molto autografi, abbiamo fatto molto le foto e questo ci fa piacere, ci dà una cosa in più per, ripeto, ancora di calcio, per dare sempre una spinta per giocare bene. Senti, ma come sta andando questa giornata di autografi, attaccate ai vostri tifosi, fotografie? No, è bello, fa piacere, è divertente, perché comunque trovi tante persone, tanti ragazzi che hanno questa voglia di essere contenti con un autografo, quindi li fai molto volentieri. Ci riferiamo in questo momento a Nagatomo e proviamo a scoprire quali parole in italiano tu hai imparato. A parte ciao? Ciao. Buonasera. Buonasera, buongiorno. Poi? Andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare, non è male. Fotografie, autografi? Fotografi? Cosa? Autografi, bambini? Bambini. Autografi? Sì, sì, io ho fatto firma. Esatto. Quindi siamo già a un buon punto, forse di qui a fine campionato arriveremo a scoprire qualche parola in più. Autografi. 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 Grazie.